buonasera a tutti bene ritrovati con la nostra rubrica di ipodismo e atletica insieme a moreno sinatti commenteremo questa quinta edizione della green cup di subiano moreno che è una manifestazione che ha visto quest'anno direi una grande partecipazione di atleti e anche da un punto di vista tecnico siamo molti molti partecipanti anche qualificati come si vede adesso da queste immagini che gli atleti escono dal campo sportivo era un bel gruppo bello insomma variegato e anche abbastanza quotato come come reti si fra l'altro sono rientrati diciamo anche in questa competizione due atleti che diciamo sulla carta potevano essere protagonisti anche sapevamo che erano un po dietro di preparazione la prima gara che facevano quest'anno quindi scendi genziana e guider di fabio quindi però si sono fatti vedere non hanno vinto ma si sono piazzati nelle prime posizioni e fra l'altro ha corso anche l'atleta diciamo di casa fra virgolette insieme a camilla e poi insieme anche a filippo occhiolini che ancora purtroppo stenta a riprendere diciamo la sua diciamo normale partecipazione dal punto di vista agonistico intanto vediamo anche la genziana cenni che comunque sia nonostante la l'assenza delle gare è sempre una protagonista come come fabio guidelli quindi quando si presentano non sono proprio 0 0 insomma no comunque è stata una bella una bella gara è combattuta fino a fino alla fine e niente subiano marato era presente la scuola del subiano era presente proprio massiccia non mi sembra una sessantina di atleti iscritti quindi ma poi direi direi che abbastanza bravi sono una società è una società che anche vediamo anche nelle iscrizioni della scala del castello insomma è una fra quelle più numerose quindi si sta evolvendo si sta potenziando un po la presenza anche di quel settore lì intanto vediamo in un scorcio diciamo del percorso percorso particolarmente suggestivo caratteristico quello di subiano sono già state fatte le scalette e quindi è passato circa un chilometro e mezzo dalla parte questa è la prima fase poi dopo la rivedremo le scalette in una seconda fase questa è la prima è la prima il primo passaggio da questa questa piazza e niente percorso abbastanza impegnativo sia prima che dopo è molto vario perché poi fra l'altro c'è tratti di piano di pianura ma sono tratti salita di discesa quindi sicuramente diciamo non così semplici da realizzare quindi un percorso che devono stare attenti molti atleti anche nelle nell'affrontarlo c'è proprio anche le scale inizialmente ti trovi quasi imbottigliato se non sei nelle prime posizioni ti trovi imbottigliato ti sembra ritrovarti imbottigliato perché dopo quando cominciare ad essere nelle scale te anche te fai quello che fanno gli altri davanti quindi insomma percorso difficile da interpretare quindi bisogna che se uno riesce a stare davanti dall'inizio è avvantaggiato e qui abbiamo visto anche un settore femminile particolarmente agguerrito con la barneschi francese con la martesini valentina con scendi genziana fontanica milla ma quattro atlete che sicuramente l'incertezza prevale fino alla fine perché poi negli ultimi tempi mancando anche la belardinelli in questa fase che la poteva vincere però ecco c'è da dire che questi atleti sono sia la martesini che la fontani che anche qualcun'altra sono sono in crescita sono specialmente la martesini viene la maternità insomma è già passato si ha fatto pochissime gare diciamo nel 2017 però già dove si è presentata si è presentata diciamo a pieno a pieno regime insomma tutto sommato positivamente quindi la vediamo in crescita sempre maggiore e questo fa sperare anche per il proseguo della stagione sicuramente è una che a fine c'è penso anche quest'estate potrebbe vincere qualche altra gara rispetto anche oltre quella di subbiano certo poi anche a livello maschile qui avevamo diciamo pronosticato anche se in maniera silenziosa diciamo un poio un po particolare con la presenza anche di alessandro tartaglini non lo volevamo menzionare come protagonista principale poi invece si è superato anche lui insomma e dalle ultime prestazioni mancando uno o due di quelli che erano che potevano vincere ecco era lui il favorito d'obbico insieme a brezzi daniele anche se brezzi burzicchi brezzi è è più adesso più per le gare ma abbastanza più lunghe quindi mi manca un pochino di velocità questo essendo una gara di circa 10 chilometri devi già da fare però però dobbiamo dire che alessandro diciamo li ha staccati in salita quindi non è che l'abbia staccati in pianura per tanto tanto di cappello diciamo per tartaglini che in questo caso che ha fatto veramente una crescita nel 2017 è notevole nelle campestre stesse da queste gennaio febbraio quando ha fatto le campestre si vedeva che insomma era c'era insomma intanto vediamo anche il giovane mori che è un atleta emergente della subbiano marathon che ovviamente è le primi avvisaglie abbiamo consigliato ovviamente vivivamente anzi di di gareggiare un pochino di meno nelle istanze più lunghe perché ancora la potenzialità di poter crescere prima anno giugno quindi ha 18 anni e quindi qualcosa insomma ancora può dire diciamo dalla sua parte ecco intanto stiamo risalendo un po i vari concorrenti fatichenti che fra l'altro è leader del grand prix addirittura i primi dopo la scala dal castello faremo proprio una cerimonia di consegna delle maglie di leader che stanno saranno verdi quindi una diciamo una novità per quanto riguarda anche la colorazione e diremo anche quali saranno poi i protagonisti di questo grand prix 2017 che già si sta determinando con alcune battaglie nello spazio di pochissimi punti tra i primi assoluti e gli altri quindi abbiamo anche stocchi un altro protagonista che anche lui quando corre c'è sempre sono sempre presente nelle prime posizioni che c'è mannuccini che mancava anche lui da diverso tempo diciamo dalle gare quindi anche lui in topi che intanto vediamo prezzi insomma ecco siamo a tartaglini molto facile la corsa che tartaglini brezzi burzicchi e cristian taras e cristian taras e forse sofferto più che altro la salita anche lui poi era riduce anche da una 2005 del sabato sera si quindi anche insieme anche tartaglini lo stesso quindi hanno fatto gare diciamo di un certo tipo e poi se c'è chi accusa di più che accusa di meno c'è da dire che taras rispetto a tartaglini c'ha qualche anno più ci hanno più qualche diversi insomma che mi sembra 76 taras e comunque comunque diciamo hanno fatto una gara molto molto accorta molto decisa anche questi quattro atleti hanno staccato un po' di avversari fin dalle prime battute che veniamo prezzi che ha un po qualche difficoltà nel passo della testa della corsa e corre sul ritmo è un pochino più ce l'indica lui è più più adatto per le variazioni di ritmo insomma ecco e qui intanto vediamo sempre questa testa della corsa c'è da dire anche che burzicchi quest'anno ha fatto delle ottime prestazioni anche lui non è più giovanissimo nel 74 quindi sono tutti gli attretti giovani ce ne sono pochi sono tutti da 40 a un po' e sono quindi tra l'altro la famosa categoria A sono sempre minore rispetto alla categoria B e addirittura quest'anno la categoria veterani comincia ad essere molto molto corposa con personaggi agguerritissimi insomma quindi per poter vincere quella categoria bisogna andare molto forte andare forte e stare bene sempre se no veramente effettivamente quest'anno ha vinto uno il Fontani che ultimamente domina ha visto questo è andato molto forte è andato ha fatto veramente delle un'annata almeno questo primo periodo molto molto valida e quindi ha lasciato dietro insomma anche atleti come Stefano Sinatti come altri solgetti ma c'è da dire che Soldini è fortunato quindi anche lui potrebbe essere impapabile la stagione è lunga ancora siamo a primavera quindi ancora c'è tutta l'estate poi c'è l'autunno a voglia di gare ce ne sono tantissime e qui vediamo sempre il trio di testa quasi inseparabili questi tre concorrenti con un leggero spazio con Brezzi che ovviamente aspettava poi la salita per poter recuperare il gruppo ecco qui siamo al passaggio al secondo passaggio delle scale sulle scale e qui addirittura che Burzicchi che attacca nei confronti di Taras di Tartaglini di Brezzi quindi qui sembrava ancora tutto da decifrare insomma un pochino la gara qui fra l'altro le scalette ovviamente mettono un po' a dura prova anche gli atleti perché dovranno un pochino accorciare il passo devono cercare di spingere fare una specie di skip in salita insomma tutte situazioni che ovviamente non sono così facili da assorbire ecco quindi bisogna vedere come un riesce quando esce da questa zona qui intanto vediamo anche gli inseguitori Manoncini e Stocchi insomma non è che corri molto male Anche Giacomo Ragazzini che è costante anche lui nella sua corsa molto buona poi vediamo Videlli ecco lo vediamo Alessandro Annetti che anche lui sta diciamo piano piano tornando alle condizioni ancora gli manca qualche stimolo giusto però l'importante è non di morte C'è capace che sta bene non so anche lui sempre questo chi è Prosa questo? Prosa sì Prosa poi Fontani poi Fatichenti è Fatichenti cerca di rintuzzare gli attacchi di Refi che lo tallona nella classifica del Grand Prix a pochi punti quindi lì se la giocano veramente nello spazio di pochissimi punti e chi fa più gara a questo punto diventa determinante ecco Mazzarelli poi vediamo e qui vediamo proprio anche il gruppo degli inseguitori quindi carino anche questo scorcio del percorso è un passaggio molto spettacolare molto caratteristico sulla sinistra abbiamo l'Arno e qui diciamo questa specie di passerella che potrebbe essere veramente apprezzata da un punto di vista proprio del rilassamento anche nel periodo estivo quindi sicuramente è molto fresco mi ricordo questo qui vediamo intanto la Valentina Mattesini insieme alla Varneschi Francesca proprio lottare spalla a spalla diciamo qui siamo ancora a metà gara circa anche meno anche più e quindi ce la fa tutto il tratto diciamo della salita però ecco ancora la situazione è abbastanza diciamo equilibrata e incerta qui vedete qualcuno che costa lì ecco vediamo transitare poi vediamo che la Varneschi è leggermente avvantaggiata anzi è passata prima la Valentina sì in questo passo sembrerebbe dare immagini ecco qui la Ceni vigenziana perché vedete qualcuno ha qualche difficoltà anche nelle scalette perché non è così bisogna vedere come uno le prende insomma ecco quindi da quale con quale stimolo con quale diciamo frontani eh anche frontani è uno che non manca mai c'è sempre quindi lui fra l'altro anche lui sta tallonando il discorso proprio del Grand Prix è dietro a Stefano di pochissimi punti anche lì quindi se la giocano veramente ogni ogni categoria rispetto agli anni passati che c'erano quasi degli degli stacchi abbastanza importanti ora proprio sono limati alla a numeri molto bassi quindi se uno ha una giornata non felice perde perde tante posizioni insomma ecco e qui vediamo ancora ecco qui la Tiberi Lucia poi la ecco la Crimini che quest'anno addirittura sta battendo Sassi Antonella quindi nella classifica del Grand Prix e quindi ecco qui siamo tornati invece nel percorso lineare si si va verso Montegiovi e qui chiaramente un attimo diciamo di recupero perché qui andiamo un pochino sul ritmo recupera recupera si recupera nel senso organico e qui si comincia a risalire e qui chiaramente ecco la selezione avviene quasi in maniera naturale qui è molto più facile perché sono dei strappettini di 50-100 metri che proprio fanno delle impennate questa strada qui vediamo la Valentina Mattesini che era diciamo in questo gruppetto di concorrenti che sta diciamo assaporando la salita quindi la parte un pochino più impegnativa del percorso che ancora ecco che vediamo anche Caporali Caporali che si è rimesso in buone condizioni la seconda terza gara che fa quest'anno anche lui sicuramente ha avuto qualche accia e Mazzarella Mazzarella è sempre presente è sempre davanti sempre piazzato sempre piazzato vediamo anche Verini questa salita qui si comincia a sentire qui si comincia a sentire e vediamo Frontani poi Prosa poi Stocchi e Vannuccini questi siamo proprio alla fine al limite prima di entrare dentro il boschetto e qui la discesa e qui quando ha staccato gli avversari quindi vediamo qui manca circa un chilometro e mezzo poco più alla conclusione e vediamo che Alessandro Tartaglini ha un vantaggio avete visto nella salita però c'è stato Brezzi che ha fatto un recupero provvidenziale nei confronti sia di Burzicchi che Taras Taras perde ha perso diciamo posizione quindi difficilmente a questo punto qui avrà la forza di reagire per raggiungere il trio di terza circa 800 metri dall'arrivo qui siamo e qui vediamo c'è un vantaggio ancora di una settantina 80 metri nei confronti degli altri si vuole indietro proprio per controllare perché effettivamente ora è a rischio insomma e qui vediamo al traguardo l'arrivo di Alessandro Tartaglini la prima vittoria la prima vittoria che fa secondo posto per Burzicchi che ha staccato proprio nel finale Berenzi Daniele quindi il tempo fra l'altro di 36.06 36.20 36.25 poi al quarto posto vediamo Cristian Taras al quinto posto per Stocchi è quello che loro dovrebbe arrivare comunque tutti soddisfatti anche della prestazione sono stati rapidi anche nelle prime azioni anche perché poi il pomeriggio avevamo i campionati di società quindi dovevamo anche noi sveltire un po' le operazioni ma sono stati eccellenti sotto l'aspetto organizzativo poi vediamo Vannuccini poi Alessandro Annetti che nel finale ha recuperato moltissimo quindi si è diciamo avvicinato al gruppetto che lo inseguiva poi Guidelli anche lui per essere la prima gara che fa nel 2017 direi c'è sempre quando quando si presenta Fabio Guidelli insomma qualcosa ha promesso parteciperà anche alla Scala Castello che non ha mai partecipato quest'anno che sembra che sia presente poi Refimirco poi Fontani Ettore eccolo qui lo vediamo poi direi anche Proz è andato molto forte sì ma anche lui è recupero perché ultimamente ha fatto insomma delle prestazioni poi Agostinelli altro atleta che si è presentato molto bene in tredicesima posizione poi Verini Verini anche lui è riuscito a diciamo a rintuzzare un po' gli attacchi vediamo Fatichenti un pochino affaticato c'era quasi poi dopo c'è Antonini poi Bigazzi nascita a Montevarchi poi Mattesini della Praia della Praia del Progete poi Bonini questo con la barba poi dovrebbe essere fra poco presente anche Mazzarelli Capacci Banelli ecco qui anche il giovane Banelli insomma è stato andato bene sì è stato andato bene Allori è sempre lavorato Allori poi Smacchia Caporali Vallelonga Frullanti ecco qui vediamo già Menchetti poi Comanducci Massimo dovrebbe arrivare ecco qui poi vediamo Stefano Sinatti ecco vediamo anche la prima donna che Mattesini Valentina che anche lei vince questa diciamo la prima gara dell'anno che vince davanti a Francesca Parneschi siamo anche dei due anni perché poi Peluzzi chiaramente un po' un altro dei promotori della manifestazione poi la Scenigenziana al terzo posto quindi grande risultato anche per Scenigenziana al quarto posto invece per la Camilla la Camilla Fontani insomma che ecco no poi vediamo anche quest'altro atleta sì che un atleta che viene dal Fiorentino è andata molto bene poi la Sassi Antonella Antonella poi Nicoletta Sanarelli ecco si susseguono un po' i vari i vari concorrenti ricordiamo anche poi anche te hai visto sei arrivato ma di categoria sei arrivato un po' indietro no quarto quarto sì la vittoria è andata si è mancato qualcuno quindi allo Scaglia poi Lancellotti Lancellotti terzo posto primo secondo terzo quarto Lombardisi non si è la stessa società e poi vediamo anche l'arrivo di Gibin a Miccare che nonostante le difficoltà a volte riesce a superare anche gli ostacoli più importanti qui intanto anche le gare del settore giovanile direi abbastanza anche numerose diciamo alcune categorie come al solito poi per me azioni immediate con delle belle coppe quindi si 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 hanno voluto diciamo forzare la mano anche nei confronti della della promozione quindi in modo come un altro per promuovere queste iniziative e quindi all'interno del campo non ci sono pericoli di nessuna sorte quindi vanno benissimo in questa maniera poi le società che hanno particolarmente diciamo presso parte a questa competizione sono la Polisportiva Policiano la Polistica del Campino e la Polistica Rezzo queste sono state le tre società maggiormente accreditate ovviamente togliendo la Subbiano Mara e che vediamo molti genitori che ovviamente vogliono immortalare l'arrivo dei propri figli con immagini fotografiche televisive e quant'altro ora è molto più facile fare le fotografie perché tutti hanno il cellulare quindi prima era più difficile adesso invece sono tutti nel mezzo e rimane anche molte volte difficile fare proprio la classifica dei ragazzi quindi diciamo che è un plauso per la Subbiano Marathon che ancora una volta ha dimostrato la capacità la competenza anche di organizzare queste manifestazioni l'appuntamento per loro è il 2018 sempre la seconda domenica di maggio e quindi nonostante quest'anno anche alcune concomitanze che vi erano è riuscito a portare tantissimi partecipanti a livello di allutti erano un bel gruppo quindi molte volte dipende anche dove vai perché c'è il percorso bello perché c'è la premiazione questo qui c'era tutto quindi la gente ha partecipato ovviamente il prossimo appuntamento per quanto riguarda il Grand Prix sarà domenica 28 maggio con la scalata al castello della quale poi avremo anche a tu per tu un settimana prossima un servizio speciale proprio di questa manifestazione che verrà riproposta anche quasi in diretta da Rezzo TV e anche poi riproposta su YouTube e quant'altro quindi intanto vediamo il podio maschile femminile i primi tre classificati e poi le prime tre classificate che completano questa quinta Green Cup di Subbiano e adesso passiamo un po' alla presentazione un po' della scalata al castello manifestazione che diciamo il 28 di maggio sarà l'attenzione dei grandi appassionati di atletica ed ipodismo ma in questo caso qui è una gara nel centro di Arezzo ricordiamo Reno che sarà un pomeriggio spumeggiante molto diciamo velocizzato insomma in tutti i sensi i tempi molto accorciati sì ci saranno un sacco di concomitanze nella gara quindi speriamo di farcela entrare tutte dal punto di vista della partecipazione i cast per adesso siamo già al 90% però è già definito con dei nomi che di un certo di un certo livello sì anche attrezzi italiani che quest'anno sì quest'anno siamo riusciti anche forse ancora per alcuni c'è qualche piccolo diciamo piccolo tassello da superare ma insomma ecco ci stiamo attrezzando soprattutto a livello femminile sarà una gara ad altissimo livello sì penso come quest'anno eh sì la prima volta la prima volta che avremo una gara femminile ad altissimo livello sia per quanto riguarda le azzurre sia per quanto riguarda anche le atlete straniere di un certo prestigio e quindi qui le nazioni saranno diverse anche quelle che vi prenderanno parte perché saranno presenti dalla Romania dall'Ucraina dall'Inghilterra dall'Italia dalla Moldavia dal Kenya dalla Rwanda quindi veramente tantissime tantissime nazioni rappresentate in questa in questa competizione a livello maschile anche lì stiamo aspettando una risposta importante ancora non abbiamo in mano il nome forse di maggiore grido ma avremo senz'altro dei personaggi dipende dal visto esatto quindi dipende proprio dalla federazione internazionale se riescono a darlo rapidamente oppure no quindi potrebbe essere la presenza di un grande campione che ci ha fatto sorridere e dare spettacolo qui anche alla Scalata del Castello di qualche anno fa insomma quindi vedremo un po' quello che succederà sarà l'ultimo anno che gareggerà questo personaggio quindi non sapremo se sarà presente alla Scalata del Castello se fosse così noi ovviamente lo accetteremo molto molto volentieri però saranno presenti anche atleti anche azzurri importanti il campionato italiano diciamo della mezza maratona dello scorso anno e poi avremo atleti del Marocco del Kenya anche qui di un po' di tutto il mondo anche qui avremo Ucraini presenti quindi ci saranno diversi atleti importanti e questo atleta marocchino che addirittura ha un 8.13 nei 3.000 sepi quindi rappresenta una delle migliori prestazioni mondiali della specialità quindi vedremo un po' quello che accadrà diciamo che nelle prossime nei prossimi giorni ovviamente usciremo anche con dei comunicati usciremo anche con diciamo servizi appropriati per dare un po' le caratteristiche ecco per tornare un pochino alla giornata di domenica 28 Moreno comincerà alle ore 16 e 15 con il settore giovanile quindi il settore giovanile che molto spesso verrà molto raggruppato per cercare proprio di dare vivacità alla competizione quindi dipendentemente dalle varie categorie la distanza più lunga sono 834 in giro del percorso della gara internazionale questa è la distanza più lunga quindi gli altri addirittura quelli più piccoli faranno dai 200 ai 400 metri quindi distanze molto brevi ovviamente il palcoscenico sarà piazza Guido Monaco come al solito via Crispi e via Roma poi piazza San Francesco e Corsa Italia queste sono le zone principali nella gara maturi direi che il solito percorso di circa 10 chilometri e 4 10 e 3 10 e 4 che è direi abbastanza è bello perché ripassi sempre dove c'è il pubblico quindi non sei mai solo nel percorso quindi attualmente sono quasi 400 gli atleti iscritti abbiamo dato questo lascio diciamo avevamo decisi di stare 350 poi le abbiamo allungate perché ci sono state delle richieste quindi arriveremo massimo a 400 iscritti più non le possiamo fare anche perché abbiamo un premio di partecipazione ben preciso però abbiamo pensato e deciso anche di accettare la gara non competitiva non prevista quindi all'euro verrà data anche una maglietta tecnica diciamo della manifestazione proprio per per dare a tutti la possibilità di partecipare a questa 45esima edizione della Scalata al Castello che è la più antica della provincia di Arezzo e forse anche una delle poche che c'è rimasto in Italia a livello circuito quindi il circuito chiaramente è un circuito una gara importante quest'anno ecco come dicevamo in precedenza Moreno probabilmente non ci saranno gli atleti di contorno fra virgolette nel senso quelli che faranno da numero 4 giri e poi vengono doppiati quest'anno saranno una ventina 25 atleti però tutti allo stesso livello tutti allo stesso livello quindi sicuramente sarà una gara molto molto quotata da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista spettacolare e poi alcuni spettacoli collaterali che verranno inseriti all'interno della manifestazione in cui sarà per esempio all'Olimpiai una scuola di danza ritmica moderna che farà un'esibizione nella decina di minuti lì nel parterre via Roma e quindi sarà la possibilità anche di visionare questi ragazzetti più giovani e anche gli adulti in una scenografia diciamo particolare mentre in piazza Guido Monaco ci sarà la possibilità invece per coloro che vogliono ancora danzare quindi con musica un pochino più briosa diciamo la Zumba che verranno che diciamo durante la giornata diciamo sistematicamente terranno vivacità alla competizione e poi anche poi in piazza di Guido Monaco ci sarà anche il mondo convenienza che con i propri animatori cercherà di fare dei giochi dei spettacoli di omaggiare a tutti i partecipanti che vorranno partecipare un pallone quindi ogni volta che colpiscono fanno un gol e verrà dato a loro un pallone quindi il mondo convenienza mette a disposizione anche questa possibilità quindi di divertirsi nel divertimento globale della giornata ho avuto occasione di conoscere queste persone cioè non saranno queste ma però sempre del cast del mondo convenienza l'anno scorso al mare e lì nel campeggio mi sono divertito hanno passato una giornata dalla mattina alla sera per fare i giochi ci siamo divertiti moltissimo quindi penso che anche ad Arezzo riescano a coinvolgere la gente e fare giocare e poi l'aspetto coreografico è importante sarà presente anche la nostra emittente qui di Arezzo TV addirittura con dei droni che faranno vedere la manifestazione anche dall'alto con Mariottini che è il droni Arezzo che sarà presente a questa importante manifestazione per cercare di dare tutte le sfaccettature più belle della scalata al castello edizione numero 45 e quindi ci saranno anche interviste in diretta verranno fatte insomma quindi c'è veramente di tutto e di più per trascorrere un pomeriggio beh all'insegna anche del divertimento e perché no vedere anche lo spettacolo uno spettacolo bello quindi l'appuntamento anche per la scalata al castello a domenica 20 28 maggio dalle ore 16 fino alle ore 20 quindi non ci annulleremo soprattutto per gli appassionati di atletica ma non soltanto e quindi sarà tutto una corsa uno spettacolo un divertimento una musica e poi lo spettacolo lo fanno gli atleti stessi quindi vi aspettiamo ovviamente alla scalata al castello anche per proprio per applaudire questi grandi personaggi che raramente si vedono nelle nostre zone i nomi li diciamo la prossima volta certo con questo vi salutiamo vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana con un approfondimento ancora maggiore per quanto concerne la scalata al castello edizione numero 45 buonasera a tutti da Fabio Sinatti e Moreano Sinatti a tutti